La Cisla FP e la Willa FPL hanno incontrato il direttore generale della Asla Vezzano Solmone L'Aquila, Rinaldo Tordera, per affrontare il delicato tema della carenza di personale all'interno degli ospedali della provincia aquilana che mette a rischio le ferie estive I sindacati hanno consegnato a Tordera una lettera in cui si sollecita la soluzione immediata del problema Nella missiva, a firma di Gianfranco Giorgi, responsabile provinciale Cisla FP Sanità e Giuseppe De Angelis, segretario regionale Willa FPL, si chiede l'assunzione di personale sanitario a fronte dell'approssimarsi delle ferie estive Un diritto irrinunciabile del lavoratore, così come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di settore e nel rispetto della legge 161 del 2014 che stabilisce la durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero Il tutto al fine di garantire condizioni di lavoro idonee ed assicurare un pieno recupero delle energie psicofisiche del personale Giorgi e De Angelis fanno presente inoltre che qualora non si dovesse provvedere alle suddette assunzioni si verificherebbe una forte riduzione dell'offerta sanitaria su tutto il territorio provinciale con sicure di servizi per gli utenti Il problema della carenza di personale che mette a rischio le ferie estive per buona parte dei lavoratori della ASL era già stato sollevato verbalmente dalle organizzazioni sindacali che hanno messo tutto nero su bianco chiedendo risposte immediate da parte dei vertici dell'azienda sanitaria aquilana In attesa di conoscere nuovi sviluppi sul fronte ripescaggio martedì 14 giugno resta fissato il CDA dei soci dell'Aquila Calcio da cui usciranno i nuovi equilibri dirigenziali con le dimissioni ormai certe del vicepresidente Massimo Mancini e l'ingresso nella maggioranza dello sponsor Eliseo Iannini a cui molto probabilmente sarà affidato il rapporto con i media e il settore marketing Da indiscrezioni sembra che avrà un ruolo in società anche il figlio Davide Iannini già parte attiva nel rush finale dello scorso campionato Per quanto riguarda la ripartizione delle quote si parla del 19% a testa tra Chiodi, Mancini e Iannini del 5% per Rossi, del 3% per Valentini e del 2% per Baldassarra mentre il restante 33% dovrebbe essere diviso più o meno equamente tra Cipriani, Brunamonte e Mililli Tra i soci minoritari potrebbe esserci un incarico importante in società per Fabrizio Rossi, il presidente del settore giovanile uno dei pochi che si è salvato dalle critiche dei tifosi dopo la cosciente retrocessione in Serie D Sul fronte sportivo è ancora top secret il futuro del DS Alessandro Battisti che scioglierà le riserve entro fine mese dopo aver appreso nel dettaglio il nuovo progetto tecnico della società